Ma perché il narcisista mente? Esiste la difficoltà da parte di alcune persone nell'accettare il fatto che alcune patologie o alcuni tratti patologici, alcune caratteristiche patologiche siano associate alla menzogna. Ti faccio un esempio. Nella tossicodipendenza abbiamo a che fare con una persona che sa che la sua abitudine, l'oggetto della sua dipendenza è socialmente visto male, motivo per cui che fa mente. Per esempio, l'alcolista va in tanti bar a bere i suoi sciottini. Perché? Perché non vuole essere identificato come alcolista all'interno di un singolo bar. La persona che è dipendente, affettiva, che cosa fa? Parla molto bene del suo oggetto di dipendenza, la POA, Person of Addiction, perché sa perfettamente che certi comportamenti, certi aspetti della relazione sarebbero visti male, per cui cerca di nasconderli. Le persone che hanno una forma di dipendenza tendono a mentire. La menzogna è necessaria per mantenere la dipendenza, che è necessaria per la loro stabilità e l'equilibrio emotivo. Nel narcisismo come funziona questa cosa? Pensaci bene, la personalità orientata narcisisticamente ha un'autostima che dipende dal modo con il quale è vista dall'esterno. Se io dipendo dal modo con il quale gli altri mi guardano, che cosa significa? Che io dipendo da tutti e quindi devo fornire un'immagine positiva a tutti e questo è estenuante, realmente faticoso e in terapia spesso mi dicono, sai, dovevo vedermi con certe persone, non l'ho fatto perché avevo bisogno di riposare, sono stanco, affaticato, avevo bisogno di stare per i fatti miei, perché è realmente faticoso. Più positivamente è vista questa immagine, più la loro autostima sale. Ma pensaci bene, qui si innesca un circolo vizioso, un paradosso, una dissonanza cognitiva. Se la mia autostima dipende da come gli altri mi vedono, io dipendo da tutti gli altri. E se io dipendo così tanto da tutti gli altri, se la mia autostima dipende dagli altri, allora questo abbassa la mia autostima, perché mi toglie valore e non sono una persona di valore. Ho un'autostima che dipende da come sono giudicato dagli altri. A questo circolo vizioso che si viene a instaurare, dove io alzo la mia autostima proponendo un'immagine positiva alle persone. Ma siccome la mia autostima dipende dall'immagine positiva delle persone, allora questo riduce la mia autostima. Te lo ripeto perché è importante capirlo. La mia autostima dipende da come mi vedono gli altri. Io propongo un'immagine positiva agli altri per alzare la mia autostima. Ma siccome la mia autostima dipende da come mi vedono gli altri, questo significa che io sono una persona molto dipendente, non autonoma e non indipendente. E questo abbassa la mia autostima. E questo cerchio si ripete costantemente. Siccome questa persona si trova a vivere una condizione di reale dipendenza da tutti, è ovvio che ogni tanto si leghi un po' più a qualcuno nello specifico. Qualcuno che diventa una persona speciale, una fonte speciale di approvvigionamento narcisistico, cioè di regolazione della sua autostima. Perché? Perché è estremamente portato alla dipendenza e quindi ogni tanto instaura dei legami preferenziali che però di fatti minano il suo senso di autonomia. Perché già sono dipendente da come mi giudiano gli altri. In più tu diventi anche un interlocutore privilegiato per cui da te dipendo un po' di più, questo va a minare la mia autonomia. E come ne esco? Come riesco a rompere questo cerchio che si è venuto a creare? Il narcisista è molto intelligente di solito, non sempre, però mediamente è molto intelligente. Ma questo non vuol dire che sia profondo. Si può essere intelligenti e superficiali. Molto spesso quindi che cosa succede? Che questa persona, anzi che fare un lavoro su di sé, va semplicemente a trovare una strategia, uno stratagemma che in qualche modo conceda l'illusione di essere autonomo e indipendente. E cosa mi concede l'illusione di essere autonomo e indipendente se non il fatto di poter fare a meno degli altri? E come dimostro a me stesso o a me stessa che io posso fare a meno degli altri se non autorizzandomi a poter mentire, a poter tradire, a poter manipolare e quindi conservando l'impressione di non dipendere da nessuno. Mentre invece dipendo da tutti. La strategia che utilizza il narcisista non è quella di rompere il cerchio della sua dipendenza, ma è quella di adottare dei comportamenti che mantenendo la dipendenza, di fatti, vanno a dare l'illusione dell'indipendenza e dell'autonomia. E in questo se ci pensi bene è esattamente come un dipendente di qualsiasi tipo. Perché che cosa fa la sostanza? Ti dà l'illusione della libertà, della facilità, di un forte senso di identità, di gioia, che però in realtà non è prodotta dalle tue azioni, ma è prodotta da una sostanza esterna. Nel caso del narcisismo quel senso di forte autostima non è prodotto dal suo senso di sé, ma è prodotto da delle menzogne che racconta agli altri, da immagini fittizie che non sono vere e che propone agli altri. E questo è letteralmente il suo mondo. Per cui, riassumendo, quello che fa è di avere un'autostima che dipende da come gli altri lo guardano. Meglio gli altri lo guardano e più alza la sua autostima. Ma siccome dipende da come gli altri lo guardano, non è autonomo e indipendente, giusto? E questo abbassa la sua autostima. Il modo che ha per rompere questo cerchio qual è? Quello di avere un comportamento che dà l'illusione di essere autonomo e indipendente. Ovvero, io questo cerchio lo alimento con dei comportamenti che però mi fanno sentire di non dipendere da nessuno. Quindi comportamenti dove io comunque mantengo una certa distanza emotiva o un ipercontrollo sull'altro. Per cui io posso mentire, io posso tradire in modo tale da dimostrare a me stesso che io posso fare a meno di questa relazione. Non sei così importante. Il controllo è mio e questa illusione del controllo mi dà quella forza necessaria a permettermi anche di rompere un rapporto intimo di valore e a non mostrare mai di fronte ai tuoi occhi che ne sto soffrendo. Perché questo abbasserebbe il mio senso di autostima. Una persona che dipende così tanto da come gli altri lo guardano, quando si lega a qualcuno in modo esclusivo che cosa succede? Avverte un forte peso di questa dipendenza da come quella persona lo guarda e quindi sente la spinta motivazionale a dimostrare a se stesso che non è così importante quello sguardo. E come? Mentendo, tradendo e assentandosi. Questi sono i motivi per cui mente. Fammi sapere se sono stato esaustivo, se ho chiarito alcune cose, ok? Ciao!